Shubham ha benergia 13 anni e del fondatore della Brygo Labs Inc, un genio insomma studente californiano di origini belga e l'ultima delle beautiful mind ancora minorenni che le multinazionali della tecnologia tengono sotto osservazione per l'invidiabile capacità di innovare giocando. Il merito più recente avrà realizzato la stampante Braille di codice a rilievo per non vedenti e ipovedenti dal costo di 250 euro. Se la notizia non vi sorprende perché non sapete che una stampante per ipovedenti ha in media un costo superiore ai 2000 euro.